Buongiorno a tutti sono Amedeo Massaro e sono il referente del gruppo Rete Eclizzano. Il gruppo è attivo da ottobre 2020 e si occupa principalmente di decoro urbano e cittadinanza attiva. Nel corso di questi mesi abbiamo dato vita a diversi eventi prendendoci principalmente cura del nostro litorale e dei parchi all'interno del nostro paese. Per la giornata della terra ci prenderemo cura del giardino del plesso fontanelle dell'istituto comprensivo Manzoni. In particolare ci occuperemo di mettere a dimora diverse piantine all'interno del giardino e di curare le piante già esistenti.